Ci dovete seguire e dovete far sentire la vostra voce, dovete fare pressione. Fatelo anche inviando gentilmente e pacificamente le foto di questa piazza sulle bacheche dei parlamentari che vogliono votare questa legge. Appelliamoci ad ogni strumento legittimo e pacifico per fare pressione sui parlamentari che vogliono votare questo proprio. E poi vedrete che ce la faremo. Io ci credo molto perché ogni volta che noi in Parlamento abbiamo avuto bisogno del popolo italiano voi avete risposto, avete risposto al referendum, avete risposto in passato sulle raccolte firme sulle leggi di iniziativa popolare e sono sicuro che il popolo italiano rispondendo oggi influenzerà i lavori là dentro. Adesso dobbiamo capire solo quante coscienze riuscirà a spostare, almeno per quelli che una coscienza ce l'hanno ancora. Allora, 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 allora Vi attracciamo tutti e vi ringraziamo. Grazie, grazie Italia e viva l'Italia, viva il Movimento 5 Stelle, viva la democrazia. Grazie.